Grazie a tutti. Una interruzione ulteriore tra le due parti di Alain Parghese. Le cose che voglio dire sono essenzialmente su tre questioni. La prima è che io sono molto contento di venire qui a discutere con voi e lo sono ancora di più perché lo faccio con Alain Parghese. Alain Parghese è una persona che ammiro da sempre, da quando l'ho conosciuto, da quando ho letto i suoi scritti. E' per me un maestro e un fratello nella teoria del circuito monetario. E so che sia lui che io, pur con simpatia, abbiamo delle critiche comuni alla Modern Money Theory. E a me fa piacere che in questo contesto due persone che non sono dei credenti della Modern Money Theory possano esprimere le loro idee. La seconda questione è relativa a quello che ha detto Paolo Barnard, tra virgolette, sugli insulti. io credo che sia bene non far finta di niente e è assolutamente vero che lui ieri a Bergamo, a un certo punto dove l'avevo invitato, questo poi magari ne parleremo, lui ha a un certo punto sostenuto che si è voltato verso di me e ha detto tu non fai parte della Modern Money Theory, perché se io avessi torto avrei fatto male a insultarti pubblicamente come ho fatto. Io ho confermato che io ho, benché condivida presumibilmente l'80% della Modern Money Theory, benché pensi che quelle proposizioni non siano così geniali e così specifiche alla Modern Money Theory, io ho dei dissenzi e quindi non faccio parte della Modern Money Theory in questo senso. E se dunque questo è argomento per l'insulto, beh, li prendo con piacere. Lui ha aggiunto un argomento, a questo argomento non risponderò, nel senso che lascio a voi eventualmente, oggi pomeriggio, domani, quando vorrete, di sollevarlo e vi dirò cosa penso, perché la risposta richiederebbe un attimo di tempo. Il suo ulteriore argomento è stato, io ho insultato tutti questi economisti perché si sono critici, ma in realtà non dicono mai che queste persone con nome e cognome non fanno solo delle politiche economiche sbagliate, ma sono dei criminali che devono andare in galera. Questo è quello che ricordo di ieri. Io però vi do una risposta, diciamo così, o gli do una risposta sugli insulti. L'ho anticipata ieri velocemente a memoria. La risposta sugli insulti in termini molto brevi è che io spero che le sue analisi sul più grande crimine abbiano migliore documentazione sui fatti di quello che io ho letto. Non mi era capitato, me l'hanno segnalato molte settimane, qualche settimana fa, molte settimane fa. L'insulto precedente che lui ha richiamato è questo. Parlando di Rimini ha detto, beh, noi abbiamo invitato cinque economisti giganti. Questi cinque economisti giganti sono zeppi di colleghi italiani, quelli che regolarmente li inseguono ai convegni internazionali per farsi belli con loro. Cioè, eccoci, ci considerate, io questo non rispondo, non mi sembra valga la pena, ma qui a Rimini i cinque giganti erano proprio lì, un salto in macchina per salutarli e magari prima dire anche ai loro studenti che questa è un'occasione da non perdere. Noi li abbiamo avvisati, sono venuti? No, neppure uno. Ma nominiamoli, l'ordine non è alfabetico, al quarto posto ci sono io. Tutti ammalati, tutti di colpo all'estero per il weekend, ma è possibile? Gli avevamo detto che i loro studenti entravano gratis, eccetera. Ora, io con i miei studenti, benché non avessi in quel periodo insegnamento io, benché non avessi insegnamento io, sono andato in tutte e tre le aule, ho presentato la cosa, quindi da quel punto di vista non è un problema. Dopodiché, per non annoiarvi e per non farla lunga, ma ho le email, se volete ve le faccio, io di Rimini ho saputo, perché ho chiesto io, gli ho detto guarda Alain Parghese, mi ha detto che viene in Italia, ma per cosa? Era metà gennaio o poco dopo. Lui mi ha detto, no guarda io faccio una cosa, in cui invito i giganti, non l'ho scritto così in quella del mail, invito queste persone della Modern Money Theory, Alain Parghese, che non è della Modern Money Theory, è invitato come esperto dell'Europa, te non ti ho invitato perché tu mi avevi detto che non eri convinto della Modern Money Theory. Io gli ho risposto, caro Paolo, io non ricordo cosa ti ho scritto, ma se quello che tu hai in mente è credere nella Modern Money Theory fino alle virgole, hai perfettamente ragione. Io non sono un credente, io, dicendo da Marx, dalla teoria del circuito e da Minsky, ho molti punti di contatto con la Modern Money Theory, ma non... al che lui mi ha replicato molto sensatamente. No, guarda, io sono per l'apertura e non per la chiusura, e io sono qui. Gli ho anche detto che non potevo venire a Rimini, anche se volevo, perché quella settimana, e l'avevo dovuto mettere da tempo in quella settimana, perché c'era l'interruzione dell'insegnamento, e ho problemi di schiena abbastanza seri, dovevo essere all'estero per salute, e non ce la facevo, tornavo di fatto il sabato abbastanza tardi. Dal mio punto di vista, come dire, i fatti, lui li ha sbagliati completamente. Spero che, come dire, sul resto ci sia migliore documentazione. Io ho invitato l'altro ieri, Parghese, a parlare dell'Europa, ieri Paolo a parlare del grande colpo di Stato finanziario e della Modern Money Theory, e iniziata alla fine, nella discussione, un dibattito, secondo me, serio e da portare avanti, sulle differenze di approccio tra teoria del circuito monetario e Modern Money Theory, io credo che abbiano delle conseguenze, anche in termini di politica economica, di questo si deve discutere. Io non ho paura del dissenso, non ho paura dell'espressione, come dire, anche di una critica particolarmente dura. Chiudo, ripeto, sono poi disponibile a rispondere più in dettaglio sull'accusa di codardia, perché non avrei detto, come gli altri economisti, che questa o quella persona deve andare in galera. Per quanto riguarda oggi pomeriggio, sì, quello che vi anticipo è semplicemente questo. Paolo mi ha chiesto appunto di parlare della catastrofe della sinistra da Gramsci, come sono finiti da Gramsci a Enrico Letta. Io ho le mie idee, in parte stanno dentro a questi due libretti di cui vi parlerò oggi pomeriggio sulla crisi, oggi pomeriggio domani, insomma, sulla crisi che ho pubblicato recentemente. Quando li ho presentati sono stato molto rimproverato, per un eccesso di polemica nei confronti degli altri economisti della sinistra, non solo moderata, ma anche radicale, io credo che per rispondere a quello che mi ha chiesto Paolo, se no non si capiscono le posizioni che io critico e i giudizi miei di forte critica, io debba fare un quadro proprio molto schematico delle fasi dell'economia italiana dopo il 1945. Non partirò da Gramsci, perché quello sarebbe complicare molto il quadro, partirò appunto dall'epoca di Togliatti, partirò dalla ricostruzione e cercherò di capire come quel tipo di cultura sia finita predominantemente non in quello che io chiamo neoliberismo, ma in quello che io chiamo socialliberismo, che è una cosa seria ma completamente sbagliata e che ha creato disastri, disastri non solo economici ma anche sociali. Ci sarebbe una terza parte, io non sono convinto di riuscire a farla, bisognerebbe capire anche come mai siano finiti così male o siano stati completamente incapaci di capire cosa era il capitalismo e perché fosse andato in crisi e di fare proposte alternative quella cultura e quegli economisti della sinistra che sono sempre stati polemici e critici nei confronti prima del Partito Comunista e poi adesso della cultura, PDS, DS, tutto quello che volete fino ad oggi. Io credo che questo sia un tema molto rilevante, cioè non solo il fallimento del neoliberismo, non solo il fallimento del social liberismo, ma il fallimento di questa cultura economica confusa, impotente, incapace di una vera analisi e però questo, se riesco dirò qualcosa, altrimenti ne riparleremo. Faccio due brevissime puntualizzazioni, la prima, se no sembro matto, la prima è che la differenza fra dire non ti invito a rimini fra i relatori era esattamente quello che ho detto, cioè non ci stai a fare niente, non sei un MMT e quindi, no, vabbè, ma lui era, la sua parte era solo specifico europeo e lui ha una conoscenza dei tecnocrati europei che tu non hai e quindi era ovvio che dovesse essere lì. E quindi non ti invitavo fra i relatori, ma ha altre cose a dire vengo a rimini a, umilmente, fra la gente, come avrebbe voluto fare te e i tuoi colleghi a sentire cosa succede, a salutarli. Ma questo, questo, vabbè, tu non potevi, su questo non ci sono problemi. L'altra cosa, l'altra cosa è che, beh, sì, certo, il punto principale della mia critica a voi è che sono 30 anni che fate vigliacchi, cioè non avete mai avuto il coraggio di dire in 30 anni una sola parola di quelle che ha il coraggio di dire a Lann, insomma, in Italia purtroppo abbiamo questo problema. Il più grande crimine avrà tutte le falle che ti pare, però io ti chiedo ancora come è possibile che sia voluto un giornalista come me, che si occupava di Medio Oriente, di guerra, di terrorismo, capito, dopo 30 anni di silenzi vostri a scrivere un saggio che è il primo saggio italiano sul più grande crimine, il colpo di stato finanziario. Capisco perché tu sei un docente universitario che avrai visto 100.000 falle, però di fatto è il primo saggio pubblicato in questo senso, voi non l'avete mai fatto. Adesso però non stiamo apriendo un battibecco, una polemica. Continuiamo con Lann, che ci porta all'ora di pranzo e poi dopo si continua.